Furto con spaccata questa notte al negozio di telefonia Calamai di Viale della Repubblica. I ladri hanno agito verso le 5 e sono riusciti a portare via alcuni telefonini e tablet per un valore di qualche migliaio di euro. La sera hanno spiegato i fratelli Calamai, togliamo gran parte della merce dagli scaffali, qualcosa però rimane e i ladri hanno fatto man bassa. Ingenti danni al negozio, i malviventi hanno prima sollevato la saracinesca con un cric, poi hanno divelto una ventina di sanpietrini dal marciapiede e con quelli hanno tenuto rialzata la saracinesca. Infine hanno spaccato la vetrina con un tombino. A quel punto è scattato l'allarme ma i ladri, agendo velocemente, sono riusciti ad entrare nel negozio per arraffare quello che era a portata di mano. Nessuno dei residenti ha visto niente, solo un cittadino cinese, sentendo dei rumori, si è affacciato al balcone senza però realizzare quanto stava accadendo. Per poter lavorare tranquillamente indisturbati, i malviventi avevano anche posizionato un cassonetto nel mezzo al controviale, in modo da evitare che qualcuno li notasse dalla strada. Il negozio si trova peraltro in posizione interna. Già quest'estate, come riferiscono i titolari, c'era stato un tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.